piove no non piove no si piove ciao ladies siamo qui perché abbiamo aperto un nuovo canale su youtube che si chiama due ladies in giardino con spianzeratezza va bene cosa serve no diciamo cosa serve prima ok questo amore è scaturito e mail il direttore di una rivista online digitale che si chiama blossom zine e ho un blog e progetto giardini io sono simonetta nel 2010 ho aperto un blog di giardinaggio che mi ha permesso di conoscere dana e ho scritto quest'anno per mondadori di libro buon gardening anche io il mio contributo poi troverete tutti i link qui sotto e organizzo mostre vivaistiche no dai cominciamo abbiamo deciso di aprire il canale di youtube perché volevamo farvi darvi un sacco di consigli mi fa male qua le caviglie far vedere come si fanno le decorazioni floreali con i fiori finti no finti no con i fiori però magari c'è uno ziorinco fiori secchi fiori veri ricette di cucina e non la regista roba qua e anche tecniche di coltivazione però affrontate con spessi eratezza dai rimai là dai questo a proposito dana ho un bel po di bulbi che aspettano di essere piantati mi dai una mano? andrei via lo smalto ma va bene vi racconteremo vi faremo vedere ciao ciao